Ok, allora, detto questo, e come sempre dicevo, sono aperto a qualunque messaggio richiesta che vogliate farmi e cercheremo di trovare delle soluzioni più o meno creative, iniziamo a vedere oggi l'argomento nuovo sulle funzioni, non è un argomento particolarmente difficile, quindi ci serve un po' da polmone prima di iniziare le strutture di dati complesse, ma ci serve anche come strumento per snellire e semplificare il nostro codice, perché finora siamo in grado di scrivere programmoni lunghi, tutti insieme, però magari a volte ci accorgiamo che ci sono delle parti di codici ripetute, oppure tutto si complica, allora sarebbe bene riuscire a imparare a scrivere del codice un pochino più ordinato, un pochino più separato. A questo servono appunto le funzioni, noi abbiamo già sentito parlare di funzioni fin dalla prima volta, quando abbiamo detto print è una funzione, c'è una cosa a cui gli passi dei parametri e lei fa delle cose, round è un'altra funzione a cui tu passi un numero o forse due, se vuoi anche indicare la precisione, e lei ti restituisce un valore, però finora abbiamo lavorato con funzioni di libreria, funzioni già esistenti, che ci aiutano a non implementarci le cose da zero perché qualcun altro le ha già fatte e le ha codificate dentro la funzione. Oggi impariamo a costruire le nostre funzioni, le funzioni di libreria non sono nulla di magico, nulla di speciale, semplicemente codice python che qualcuno ha scritto, a cui hai dato un nome e noi lo possiamo a questo punto usare e richiamare, ma lo possiamo fare noi tranquillamente. Una funzione quindi riceve dei dati d'ingresso e può generare dei dati in uscita. L'utilizzatore della funzione, cioè il programmatore che ha bisogno di usare quella funzione, non ha bisogno, non vuole, non deve conoscere come è realizzata al suo interno quella funzione. Qui la chiamiamo un po' come scatola nera perché se mi dici guarda c'è la funzione round a cui puoi passare un parametro oppure due e ciò che fa la funzione è quella di restituirti un numero intero che corrisponde all'arrotondamento secondo certe regole del numero reale che gli hai passato come primo parametro, questo è tutto ciò che mi serve per poter usare quella funzione, per poter chiamare e arrotondare dei numeri quando bisogna di arrotondare dei numeri. Come avviene questo lì dentro? Non lo so, ma non mi interessa. Una volta che l'interfaccia della funzione è chiara, cioè so esattamente che valori passarvi e che risultato mi devo attendere, l'implementazione stessa della funzione non mi interessa, se c'è già fatta. Ma anche se me la dovessi fare io, una funzione nuova, immagina che non ci fosse la round, me la devo inventare. Nell'ultimo laboratorio c'era un esercizio in cui imparavamo a generare dei numeri casuali con una certa formuletta ricorsiva. O è nel prossimo, forse è nel prossimo. Allora magari hai bisogno di scrivere del codice tu per sviluppare una funzione, la round è arrotonda a 0,5 e magari noi vogliamo arrotondare a 0,7 perché siamo gente strana. Allora possiamo tranquillamente costruirci del codice che faccia questa operazione e incapsulare questo codice dentro una funzione, in modo che chiunque voglia può chiamare la nostra funzione round7 che fa l'arrotondamento a 0,7 anziché a 0,5. Allora noi in questo modo mentalmente separiamo il dentro dal fuori, cioè noi ci sentiamo due persone diverse nel momento in cui scriviamo l'implementazione di una funzione, cioè il codice che fa quell'operazione, rispetto al momento in cui usiamo quella funzione. E quindi ci permette questo meccanismo del linguaggio che è molto semplice di affrontare dei problemi di complessità anche più ampia prendendoli un pezzettino per volta. Ok, c'è una rogna in cui devo fare un certo calcolo, magari mi richiede degli if, mi richiede dei cicli eccetera, ok lo metto dentro una funzione, quando scrivo quella funzione sono solo concentrato su fare quel calcolo. Poi una volta che l'ho fatto, l'ho testata, vedo che funziona, la uso mille volte, ma quando la uso non devo più caricarmi nel cervello le difficoltà che ho avuto quando ho dovuto fare quel calcolo, ma semplicemente uso una funzione che so che mi dà quel risultato, come lo faccia non mi interessa più, mi è interessato prima quando l'ho costruita, ci ho dovuto sudare, ma poi una volta che ci ho sudato una volta la riuso così com'è. Quindi la funzione mi permette di isolare parti diverse di programma, separare l'implementazione di un certo tipo di calcolo, di elaborazione rispetto al momento in cui questa elaborazione viene usata. E per usare una funzione mi è sufficiente conoscere la sua documentazione, la documentazione della sua interfaccia, che di fatto è costituita da un nome, da una serie di parametri e da un valore restituito. Quindi la funzione qualcuno la definisce, chiamare una funzione semplicemente significa chiamare il nome e usare parentesi tonde passandogli i vari parametri, un parametro, due parametri a seconda di ciò che la funzione richiede e la funzione in questo caso restituisce un valore. Cosa vuol dire il cui valore viene poi sostituito alla chiamata di funzione stessa. Quindi price uguale round di questa cosa qua è esattamente la stessa cosa che se io avessi scritto price uguale 6,83. Cosa fa Python? Vede che c'è una chiamata di funzione, sul lato destro dell'uguale, come prima cosa entra dentro la funzione e svolge il codice che c'è scritto, prendendo quei valori lì come parametri, i valori attuali di quei parametri. La funzione calcola un certo risultato, 6,83, è come se Python sostituisse agli istruzioni di chiamata della funzione, quindi immaginate di cancellare questo e sostituire al suo posto il risultato calcolato. E poi va avanti con l'elaborazione dell'istruzione, a questo punto vede price uguale 6,83 e memorizza dentro la variabile price quel numero lì. Quindi quando noi diciamo che una funzione restituisce un valore vuol dire che internamente calcola qualche cosa che nel momento della chiamata della funzione viene sostituito, questo risultato, alla funzione stessa. Poi se richiamo la stessa funzione nella riga sotto ovviamente ci sarà un nuovo risultato che potrà essere a sua volta sostituito. Quindi la funzione può essere chiamata più e più volte, ogni volta con parametri diversi e quindi potrà dare ogni volta dei risultati diversi. Questo è facile, però immaginate se io scrivessi, fatemi prendere almeno un blocco note perché questo può creare a volte delle ambiguità. Se io scrivessi round di A, A uguale 3,723 è quello che è, round di A. Cosa fa questa istruzione? Niente. Nel senso che io ho assegnato ad A un certo valore, poi ho chiamato la funzione round col parametro A, che quindi avendo un parametro solo arrotonda l'intero più vicino, quindi questa cosa qua vale 4. È come se io avessi scritto 4. Questo 4 viene calcolato e immediatamente dimenticato, perché non me ne faccio nulla, non lo sto stampando, non lo sto memorizzando da nessuna parte. Se la mia intenzione fosse stata quella di dire arrotonda il valore di A, cioè fai sì che A valga 4 e non più 3,7, allora avrei dovuto scrivere A uguale round di A. Perché a questo punto chiamo la funzione round con il valore attuale di A che è quello settato dalla riga 1, 3,72. La funzione round fa le sue cose, ritorno nel valore 4, questo valore 4 lo uso per assegnarlo alla variabile A, che guarda caso è la stessa di prima. Questo lo cito perché ci saranno funzioni che impareremo che restituiscono dei valori e questi valori li dobbiamo da qualche parte usare o memorizzare. Ci saranno altre funzioni, non ne abbiamo ancora conosciute, che in realtà modificano il valore stesso. Quindi dobbiamo fare molta attenzione quando conosciamo una funzione a leggere la documentazione per dire ok ma il risultato che lui fa, l'operazione che lui fa, la fa modificando il valore di A oppure restituendo un valore che poi io posso mettere dentro A ma posso anche mettere dentro B, chi se frega. Dipende che cosa ci devo fare. Ok? Quindi la funzione fa certe operazioni, il risultato di queste operazioni normalmente viene restituito come valore di ritorno della funzione. A volte però alcune funzioni possono modificare il valore dei propri argomenti. Noi non abbiamo ancora visto nessuna funzione che sia in grado di modificare il valore dei propri argomenti perché abbiamo solo lavorato con numeri e stringhe che sono dati immutabili. E quindi poiché una stringa, se te la passo come argomento, quella stringa non c'è nessun modo per poterla cambiare, non ci sarà nessuna funzione che la cambia. Questo vale tra l'altro per le funzioni, vale anche per i metodi, è la stessa cosa, abbiamo visto che i metodi sono un modo particolare di chiamare una funzione con nomine variabile punto, la funzione, ma il criterio è sempre lo stesso. Quindi noi usiamo questo termine un po' strano, la funzione restituisce un valore. Cosa che in matematica quando scrivi y uguale f di x, y è il valore restituito dalla funzione. Quindi nella funzione round noi abbiamo il nostro programma principale che a un certo punto arriva a questa chiamata, raccoglie, cosa fa Python internamente? Raccoglie gli argomenti 6,8 e 2 e chiama l'esecuzione, richiede l'esecuzione della funzione round, passando a questa funzione i valori di questi argomenti. Immaginate che questa funzione qualcuno l'ha scritta dieci anni fa, non ci conosce minimamente e quindi lui come fa a sapere che deve arrotondare 6,82 e non 3,14? Ecco chi scrive la funzione scriverà una funzione che è in grado di accettare dei parametri. Lui scriverà questa funzione accettando dei valori qualunque per questi parametri, poi solamente nel momento in cui la funzione viene chiamata, o usando il termine giusto viene invocata, solo in quel momento il valore attuale del parametro 6,82 verrà passato in qualche modo alla funzione. Quindi si parla di passaggio dei parametri. Io ho un valore nel mio programma principale, voglio passare questo valore al codice della funzione che ha scritto qualcun altro. A questo punto questo codice conoscerà questi valori, non è che la funzione dentro si fa input per richiedere il dato all'utente, la funzione riceve il primo parametro che è il numero da arrotondare e il secondo parametro che è la precisione. Ogni volta che chiamo la funzione passerò dei valori diversi come argomenti di questa funzione. La funzione fa cose e poi alla fine avrà un meccanismo per restituire il valore di ritorno. Questo valore di ritorno, in questo caso, in questa istruzione, verrà, vediamo cosa c'è intorno alla chiamata di round, c'è un price uguale, quindi price uguale nel contesto in cui la funzione viene chiamata e fa sì che il valore di ritorno venga memorizzato nella variabile price. Però il fatto di memorizzare il valore di ritorno nella variabile price dipende dal mio programma, viene fatto dopo che la funzione ha restituito il suo valore, il suo valore di ritorno. Quindi il nostro programma è costituito da queste due istruzioni, definisco qual è il valore dei parametri e decido che cosa farmene del risultato. l'implementazione della funzione non fa parte del mio programma, la uso, diciamo a tempo di esecuzione quel codice viene scritto, viene eseguito ovviamente, ma a tempo di scrittura quel codice non lo vedo, so che c'è, fa parte di una libreria. Quindi abbiamo due parti di programma che in qualche modo si stanno parlando e si stanno dicendo che funzione voglio chiamare, quando, con quali valori e cosa me ne faccio del risultato. C'è un meccanismo di chiamata della funzione, in gergo chiamiamo di invocazione della funzione perché la invochiamo, non solo la chiamiamo, per favore facci questo, e questo meccanismo invocazione ha due momenti, l'attivazione in cui ti passo i parametri e il ritorno in cui raccolgo il risultato. Poi in mezzo c'è l'esecuzione del codice, ma questo non ci interessa, come utenti. I valori normalmente che passiamo a una funzione si chiamano argomenti, i valori attuali che ogni volta possono essere diversi, che dipendono da che cosa sta facendo il programma. Gli argomenti della funzione sono ciò che noi il lato chiamante usiamo per specificare che calcolo deve fare in questo punto specifico la funzione. Sono i valori per i quali vogliamo che la funzione calcoli i propri risultati. Poi, una funzione può ricevere un argomento, due, tre, può ricevere un numero di argomenti opzionali, lo sappiamo, no? Abbiamo già visto, ad esempio la print, posso mettere l'argomento opzionale end oppure non metterlo. Ci sono funzioni anche senza argomenti, con zero argomenti. La funzione random restituisce un valore casuale, da zero e uno, non ha bisogno di nessun argomento per poter lavorare, sa già da sola cosa fare. E restituiscono un valore di ritorno, lo chiamiamo valore di ritorno, valore restituito. Allora, mentre gli argomenti di una funzione possono essere zero, uno o più di uno, il valore di ritorno, l'ho sempre usato al singolare, può essere uno solo. Quindi a una funzione posso passare 18 parametri, ma lei alla fine mi restituisce un valore solo. Vedremo poi un trucco per far sì che questo valore contenga più numero al suo interno. Tecnicamente possiamo solo restituire un valore. Possono, non devono. Ci sono funzioni che non hanno bisogno di restituire nessun valore. Pensiamo alla funzione print. La funzione print non è una funzione che calcola nulla, fa delle cose. che valore mi restituisce? Niente. Non c'è nulla di sensato, non serve. E allora una funzione può tranquillamente non restituire un valore. Quindi possiamo avere funzioni che non restituiscono alcun valore, oppure funzioni che restituiscono un valore. Lo dobbiamo sapere noi per sapere se questo valore ci serve, lo dobbiamo usare, lo dobbiamo memorizzare da qualche parte. Questi due ingredienti, gli argomenti e il valore di ritorno sono gli unici elementi che sono in comune tra il chiamante e il chiamato, cioè c'è il programma principale e la funzione che abbiamo chiamato e che abbiamo invocato. E tutto questo noi lo riassumiamo dicendo la funzione la vediamo come una scatola nera. Entrano degli argomenti, esce un valore restituito che possiamo usare come vogliamo. Usare come vogliamo vuol dire che io non sono obbligato ovviamente a memorizzare questo valore in una variabile. Io posso dire a un certo punto questo qua, gli sommo 7.21, lo moltiplico per 3, faccio ciò che voglio. Applico sempre la stessa regola mentale, dove c'è una chiamata di funzione, Python prima chiama la funzione, la esegue, questa funzione calcolerà il valore di ritorno e il valore di ritorno viene semplicemente sostituito nel punto in cui c'era la chiamata della funzione. E poi viene usato in funzione di che cosa c'è scritto lì, delle operazioni che sto facendo intorno. Quindi il fatto di dire memorizzo dentro price il risultato della funzione è una, la cosa più semplice che posso fare con il valore di ritorno, però normalmente ci posso fare altre cose. Così come potrei fare, attenzione al gioco di questa parentesi, una cosa di questo genere. Round di round di a più 7.21. No, non serve a niente scusami, fammela mettere qua la parentesi. Cioè in questo caso che cosa sto facendo? Sto prendendo la variabile a, sto applicando la funzione round sulla variabile a che mi darà un certo valore, questo valore lo uso, gli sommo 7.21 e a sua volta questo risultato che sarà, noi sappiamo che a vale 3.7 quindi questo risultato sarà 11.21, 4 più 7 è 11, viene passato ulteriormente la funzione round che farà, darà come risultato 11 per 3, 33. Dica 33, l'abbiamo detto in un modo complicato. ho chiamato più volte la stessa funzione in rapida successione, nella stessa riga, ma ogni volta ciò corrisponde a una chiamata separata e indipendente del codice della funzione round. round. La prima volta la funzione round riceve come parametro, come argomento, scusate questo termine parametro che non abbiamo ancora introdotto, come argomento il valore 3.72 e restituisce come valore di ritorno il valore 4. Poi subito dopo viene chiamata la funzione col valore 11.21 e restituisce come risultato il valore 11. La funzione non sa che è stata chiamata come parte di un'unica espressione complicata. L'ho chiamata due volte e in ciascuna delle due volte ha fatto il suo lavoro senza sapere pensare o voler sapere come e perché è stata chiamata. Ok? Vabbè qui è una cosa che abbiamo già detto. Allora finora abbiamo visto le funzioni dal lato utilizzatori, funzioni già fatte che se ci fa comodo possiamo usare. Qui ho provato a riassumere le funzioni predefinite di Python nella libreria standard, colorandole ho messo in rosso quelle che abbiamo già usato, in verde quelle che potrebbero essere interessanti ma alcune le abbiamo usate, alcune no, in giallo quelle che useremo nella parte di corso che deve venire. Quelle che non ho colorato sono un po' meno utilizzate o forse, in realtà non è vero, dovrei aggiungere numerate, dovrei aggiungere open, vabbè sono stato troppo limitativo. Queste funzioni sono accessibili sempre, in qualunque riga di codice posso usare una di queste funzioni predefinite. Funzione. Ci sono poi funzioni che fanno comunque parte delle librerie standard ma non sono automaticamente predefinite, bensì sono definite all'interno dei cosiddetti moduli. Se io uso una funzione matematica, le funzioni matematiche sono definite dentro il modulo che si chiama matematica. Se io voglio invece fare dei calcoli con i numeri complessi, le funzioni relative sono inserite in un modulo che si chiama cmat e così via. Cioè ci sono tanti moduli, nella libreria standard ce ne sono più di 200 che sono elencati qua, a questo secondo link, questo è l'elenco di tutti i moduli che sono presenti nella libreria standard di Python, vuol dire che quando voi installate Python si porta dietro tutti questi moduli. E ciascun modulo al suo interno, ne so, l'avevo visto time, al suo interno definisce tante funzioni, functions e una serie di funzioni che sono relative a quell'argomento. Quindi 200 moduli, in ciascuno di questi moduli sono definite decine di funzioni, a cui abbiamo accesso, cioè possiamo usarle immediatamente, purché usiamo l'istruzione import per importare all'interno del nostro programma le definizioni delle funzioni presenti in quel modulo. Quindi se ci serve, prima abbiamo preso appunto il modulo time, adesso lo ritrovo, che era qua, se ci serve una di queste funzioni, ad esempio sapere che data è oggi, dovremmo prima di tutto importare modulo time per poi poter chiamare questa funzione. La sintassi di import l'abbiamo già brevemente vista, posso semplicemente importare il nome di un modulo e a quel punto potrò accedere alle singole funzioni con una sintassi che si chiama nome qualificato, cioè nome del modulo punto nome della funzione. Oppure posso scrivere dal modulo import una certa funzione, allora questa funzione diventa visibile nel mio programma, la posso chiamare senza ogni volta metterci davanti il nome del modulo. Quindi se io faccio import math, la funzione seno la chiamerò come math punto seno, se invece lo uso tante volte, questo seno, e quindi non voglio scrivere ogni volta math punto, math punto, math punto, farò from math import sen, sin, e a questo punto la funzione sin è visibile, si può usare, si può chiamare normalmente. È solo una questione di comodità di sintassi, sono assolutamente equivalenti. Alla fine sto chiamando la stessa funzione. E questo, quindi ci basta fare un import per poter accedere a qualunque di queste migliaia di funzioni già esistenti. Poi magari non tutte ci servono, ecco per fortuna. E poi se non ci bastassero le funzioni già esistenti esistono dei moduli aggiuntivi sviluppati da qualcuno, in giro per il mondo, che si possono semplicemente scaricare ed aggiungere al nostro progetto. Quindi sono moduli che non fanno più parte della libreria standard, sono dei moduli aggiuntivi esterni che posso scaricare all'interno del mio progetto. Tutti questi moduli sono raccolti in questo sito, PyPy, che ci dice che ci sono circa 300.000 progetti, qui ce ne fa vedere alcuni di esempio, c'è una parte di browse dove fa vedere, prendiamone a caso, insomma ce ne sono, sto cliccando più o meno a caso, cerchiamo, immaginiamo qualcosa che vogliamo avere a che fare con, non so, dei grafici, plotting, ho scritto plot in una casa di ricerca, mi tira fuori una serie di moduli che permetteranno probabilmente di fare dei grafici. poi ovviamente bisogna poi conoscerli, andare a studiare la documentazione, eccetera, eccetera. Quindi in questa grossa libreria di moduli PyPy ci sono veramente tutto e una volta che io ho installato un modulo all'interno del mio progetto, lo posso usare come se fosse un modulo di libreria. Cioè mi basta a questo punto fare un normalissimo import e lo posso usare. Da PyCharm è molto facile, Apro il progetto delle settimane, perché se voi andate, prendete il progetto e andate nell'impostazione del progetto nell'impostazione del progetto c'è una voce che all'interprete Python quindi fa vedere quale versione di Python state usando e qui c'è l'elenco dei package, dei moduli che sono stati, che sono accessibili a questo progetto. Se vi serve un modulo esterno basta che andiate su questo più e questa finestra di fatto è la ricerca nel catalogo di PyPy. Quindi prima avevamo scritto plot, scrivo plot qua e ho tutti, diciamo, questi, queste librerie, questi moduli con due righe di spiegazione ciascuno, quindi in realtà non basta leggere queste righe, di solito sai già cosa ti serve, fai install qua sotto e quel modulo entra a far parte della libreria del tuo progetto. Ogni progetto, quando ho creato un nuovo progetto in PyCharm ha le sue librerie in modo che i moduli che installano in un progetto potrebbero non essere gli stessi che mi servono in un progetto diverso, quindi ogni progetto ha i suoi e una volta che avete fatto questa operazione di installazione dentro il codice potete tranquillamente usare import e usare queste nuove funzioni. Adesso noi nel corso non ne avremo praticamente bisogno però il meccanismo è generale è semplice addirittura se tu in Python scrivi import di un modulo che non c'è ti viene il punto interrogativo il segnalino rosso che dice vuoi installarlo? Qui addirittura non c'è neanche bisogno di andare in questa finestra e cercare il modulo. Ok, però come dicevo vai qui ci sono le ideate non ne avremo particolare bisogno per il tipo di programmi che faremo. Ok, finora abbiamo visto dal punto di vista di chi usa una funzione che esiste già quindi noi siamo felici che qualcun altro abbia scritto una funzione l'abbia messa nella libreria standard o in un mo... scusate l'abbia messa come funzione predefinita o come una funzione della libreria standard per cui mi basta scrivere import o come una funzione di un modulo esterno per cui devo installarlo e importarlo e poi la uso. Proviamo adesso però a metterci dall'altro lato che se io devo costruire una funzione cosa faccio? Ad esempio voglio costruire una funzione che calcola il volume di un cubo cosa complicatissima avanzatissima poi ci danno il nobele allora proviamo a farlo direttamente sul codice settimana 06 e creiamo un file che si chiama cubo allora noi vogliamo costruire una funzione definiamo una funzione che calcoli il volume di un cubo allora per ora le funzioni le sappiamo vedere come scatole nere e una scatola nera richiede tre ingredienti per essere definita il nome della funzione i parametri gli argomenti perdon gli argomenti che essa può ricevere e il valore di ritorno quindi noi decidiamo che questa funzione avrà come nome volume cubo perché ho tanta fantasia questa mattina questa funzione riceverà come argomenti uno un argomento che è la lunghezza del lato quindi un argomento di tipo float che è la lunghezza del lato è un cubo quindi una volta che ho il lato ho tutto e poi avrà come valore di ritorno il valore del volume come numero reale queste informazioni sono ciò che servono agli utilizzatori di questa funzione e quindi più avanti se io volessi usare questa funzione potrei scrivere input lato uguale lot di input e ti chiedo al caro utente senti dimmi quanto è il lato poi calcolerò il volume come volume cubo di lato e potrò stampare a questo punto il volume vale volume queste tre righe le potrei scrivere se volume cubo fosse una funzione di libreria ma non c'è non esiste me la devo costruire infatti PyChamp si lamenta mi dice guarda questa funzione vorresti che ci fosse ma non c'è unresolve reference non conosco il nome vabbè lo possiamo costruire noi la costruiamo in un modo molto semplice per costruire una funzione uso semplicemente la parola chiave def def sta per define definisci definisci una funzione che si chiama volume cubo e la definizione della funzione richiede che io specifici il nome della funzione l'elenco degli parametri che la funzione può ricevere in questo caso un argomento che è il lato chiamiamolo A e poi due punti il corpo ormai abbiamo capito che quando faccio due punti a capo si aspetta un corpo di istruzioni annidato dentro in questo caso la definizione della funzione che sono le istruzioni che dovranno essere eseguite quando questa funzione verrà chiamata questa funzione riceve un parametro A che è il generico valore che corrisponderà al lato del mio cubo e quindi calcolerò il volume come A alla terza poi dovrò dire che questo valore V di questa variabile che ho appena calcolato sarà il valore di ritorno di questa funzione quindi la funzione deve dire senti io avendo calcolato V uguale A al cubo alla riga 6 7 scusate alla riga 7 ho finito il mio lavoro so darti la risposta per cui mi hai chiamato la risposta è il valore corrente di V allora ho un'istruzione che si chiama return che dice proprio questo restituisci ritorna pur ritorna al chiamante io qua il mio lavoro l'ho finito ritorna al chiamante fornendogli come valore di ritorno il valore di V quindi per definire le funzioni abbiamo imparato due nuove parole chiave due nuove comandi def e return vediamo se funziona e poi vediamo come funziona eseguo il programma lui mi chiede il lato il lato 8 il volume vale 512 che può essere giusto beh qui ho fatto un run veloce ma se andassi avanti passo passo cosa vedrei allora andiamo avanti questa volta in modalità debug mettendo un breakpoint qua prima cosa prima di eseguirlo in modalità debug quando io definisco una funzione il codice di questa funzione non viene eseguito viene letto e messo da parte quando il programma vede def quelle istruzioni della riga 7 e riga 8 non vengono fatte non vengono eseguite nel momento in cui definisco la funzione verranno eseguite solo nel momento in cui chiamerò la funzione alla riga 12 ma questo per fortuna perché altrimenti il valore di a quanto vale io la riga 6 quando il programma quando python arriva a leggere la riga 6 dice ok qui c'è una funzione questa funzione riceve un argomento quanto vale questo argomento non lo so ok quindi quando l'istruzione per la definizione di una funzione non esegue la funzione la legge e la mette da parte se io definisco di un'altra funzione qua che è l'area di un quadrato che ne so oppure chiamiamola la superficie visto che parliamo di cubi parliamo della superficie del cubo che riceve anche lei il lato e ritornerà 6 volte alla seconda questa funzione l'ho definita qua ma non l'ho mai usata allora qui l'ho definita in forma ancora più abbreviata non è anche creata una variabile intermedia di cui restituire il valore ma tanto l'istruzione return ormai abbiamo capito come ragionano le espressioni in python ciò che interessa l'istruzione return è solamente il valore che c'è lì dentro che questo valore sia il risultato di un calcolo che sia il valore che è memorizzato in una variabile a lui interessa solo se vale 10 o 20 o 30 queste due quindi ho definito una funzione che so che non mi servirà in questo caso ma non è un errore non è un problema python legge le definizioni delle funzioni e le mette da parte poi se per caso avrai bisogno di usarle le usare dimmi per il momento stiamo definendo delle funzioni all'interno di un singolo file e quindi la possiamo usare solamente noi ma poi vediamo tra un secondo come poter fare importare queste funzioni da un altro progetto ok vediamo a questo punto l'esecuzione passo passo io il breakpoint l'ho messo qui non l'ho messo qua perché qua non c'è nulla da eseguire non c'è nessuna istruzione semplicemente vedo una definizione e la metto da parte la prima istruzione vera e propria eseguibile è questa qua allora vado in modalità fuori da tutte le definizioni ok qui sono in modalità debug fermo sulla riga 15 eseguo la prima istruzione che è l'istruzione di input quindi per poter immettere qualcosa devo andare nella console perché lui mi ha fatto la domanda lato e io scrivo che il mio lato questa volta cambia il numero vale 7,3 invio vabbè finora ho solamente fatto una input che sappiamo già fare da tempo e abbiamo la variabile lato che vale 7,3 adesso siamo sulla riga 16 a livello del bugger adesso dobbiamo notare una differenza noi abbiamo sempre usato questo freccia qua step over step over nel caso in cui stia chiamando una funzione come in questa riga esegue la chiamata della funzione e mi va all'istruzione successiva lo faccio tac e arriva la riga 17 con il volume già calcolato quindi vuol dire che quando ho fatto lo step over sulla riga 16 lui ha eseguito l'intera riga 16 e se la riga 16 chiamava delle funzioni ha anche eseguito delle funzioni senza farmi vedere ciò che stava facendo beh adesso però a noi interessa vedere cosa succede dentro la funzione quindi ricominciamo da capo rieseguiamo il nostro codice col 7,3 e per poter vedere cosa succede durante la chiamata della funzione volume cubo non usiamo il tastino step over ma il tastino a fianco che si chiama step into cioè fai un passo entrando dentro la funzione non oltre la funzione queste due funzioni step over e step into sono fanno la stessa cosa tranne quando c'è una chiamata di funzione cioè in tutti gli altri casi sono equivalenti quando c'è una chiamata di funzione sono io che decido voglio vedere il codice dentro la funzione quindi ci voglio entrare dentro passo passo oppure non mi importa di quella funzione mi fido vado avanti e allora faccio lo step over come abbiamo fatto finora adesso ho visto che è una funzione che abbiamo fatto noi vogliamo vedere dentro che cosa succede quindi ci entro dentro con lo step into e mi fa vedere che l'istruzione l'esecuzione della funzione del codice che prima era la riga 16 quant'era adesso è tornata la riga 7 alla riga 16 io avevo una variabile che si chiamava lato alla riga 7 quella variabile lato non c'è più in compenso c'è una variabile a che ha acquisito grazie al meccanismo di passaggio degli argomenti ha acquisito il valore che aveva la variabile lato quindi non importa se io l'ho chiamato a apposta non l'ho chiamato lato l'avrei anche potuto chiamare lato questo argomento non importa è una variabile distinta separata che riceve il valore che aveva l'argomento nel momento in cui ho chiamato la funzione questa funzione volume cubo non sa non può sapere non gli deve interessare che questo valore arrivava da una variabile che si chiamava lato può arrivare da una variabile che si chiamava lato può arrivare da un'espressione lunga sotto otto righe può arrivare da un 3 che ha scritto l'utente che ha scritto il programmatore ma costante non importa python prima calcola il valore di questa espressione e poi la copia in questa variabile a che è una variabile visibile locale solo alla funzione quindi in questa funzione non vedo più le variabili del programma ma vedo solamente gli argomenti della funzione stessa che sono già automaticamente inizializzati col valore dell'argomento che gli ha passato il programma se io richiamassi questa funzione una seconda volta con un altro valore a assumerebbe inizialmente un valore diverso quindi in questo momento a è una copia la variabile a è una copia della variabile lato dall'interno di questa funzione non posso né vedere né toccare né immaginare la variabile lato il mio programma python adesso sta lavorando su due livelli lo vediamo qua a sinistra il livello della funzione volume cubo in cui esiste la variabile a ci clicco sopra il livello del modulo generale del programma generale in cui esiste la variabile lato ma non esiste la variabile a e questi livelli sono uno sopra l'altro quando chiamo una funzione si apre un livello in più e questo livello avrà le sue variabili i suoi valori accessibili solo ad essa solo a questa funzione non potrà accedere alle variabili i valori degli altri funzioni il livello della variabile cubo è il livello attualmente in esecuzione dove vedete che il cursore qua è blu del debugger è blu guarda stai per eseguire questa istruzione il livello esterno è un livello in esecuzione sospesa cioè sono arrivato alla riga 16 ma non posso andare avanti fino a quando il livello successivo c'è la funzione volume cubo non termina il suo lavoro quindi abbiamo n livelli di cui solo l'ultimo è quello operativo su quello che sta lavorando gli altri sono in attesa perché ho chiamato una funzione che a sua volta ha chiamato una funzione che a sua volta ha chiamato una funzione e allora fino a quando l'ultima chiamata non ha finito non posso ritornare a ritrovo quindi abbiamo degli ambiti diversi ciascuno dei quali ha delle sue variabili separate e questo è bello perché non possiamo far casino neanche volendo se io qua scrivessi lato uguale 0 qua come istruzione tra la 7 e la 8 non vado a rovinare la variabile lato del programma principale se scrivessi lato uguale 0 starei creando un'altra variabile che si chiama sempre lato ma solo confinata locale dentro questa funzione che non funziona un mondo a sé protetto comunica con l'esterno scatola nera solamente attraverso i valori che possono entrare gli argomenti e il valore che può uscire il return dentro è isolata dal resto allora finalmente facciamo questo calcolo che mi dà 389,017 il numero che tutti volevate sapere e poi arrivo all'istruzione return che prende questo il valore di v adesso vedete che ho creato v v è di nuovo una variabile che esiste solamente dentro questa funzione volume cubo per confronto se torno sul modulo di v non c'è traccia ma ce n'è invece dentro la funzione volume cubo quindi qua ho creato una variabile ho definito una nuova variabile dentro una funzione così come l'avrei definita nel codice normale nel programma normale solo che quando la definisco nel programma normale è visibile a tutto il programma quando la definisco dentro la funzione è definibile solamente nel corpo dell'esecuzione di questa funzione ha una visibilità limitata l'istruzione return che cosa dice a python? dice senti ho finito di lavorare con questa funzione prendi questo valore qui ho scritto v potevo scrivere anche qua un'espressione più complicata prendi questo valore e restituiscilo come valore di ritorno allora andando avanti qua uscirò dalla funzione allora mi aspetto che questo secondo ambito quello della funzione scompaia il secondo livello di chiamata scomparirà perché ritornerò ad eseguire il programma principale e nello scomparire mi aspetto che anche a e v scompaiono vengono distrutti dimenticate per sempre e infatti così è rimasto module è sparito il livello di esecuzione della funzione volume cubo ed è anche sparito il valore di a e il valore di v allora il valore di v non è proprio sparito davvero del tutto il valore di v la variabile v è scomparsa ma il suo valore quel numero là che già mi sono dimenticato vive ancora perché è il valore di questo di questa espressione di questa chiamata di funzione che verrà sostituita col valore infatti siamo ancora sulla riga 16 non abbiamo ancora finito di eseguire la riga 16 ne abbiamo fatto un pezzo la riga 16 fa due cose chiama una funzione e assegna un valore abbiamo visto la parte chiamata della funzione quindi l'elaborazione del ramo destro della funzione ma non abbiamo visto il lato sinistro quindi completiamo l'operazione dove questo valore 389 che era rimasto in sospeso come valore di ritorno di questa funzione l'abbiamo usato e memorizzato nella variabile volume che a questo punto è stata creata come variabile nel programma principale poi l'ultimo passo sarà quello di fare la print che mi stamperà ovviamente che il volume vale 389 e cose varie quindi ogni volta che chiamiamo una funzione questa nasce in un suo ambito isolato l'unica cosa che la funzione può vedere sono i valori degli argomenti che gli sono stati passati come fa a vederli li memorizza in variabili locali interne private alla funzione il cui nome ho specificato nella definizione della funzione stessa a quindi la funzione non sa e non può sapere come si chiamava la variabile del programma principale la funzione può usare questi valori può usare queste variabili può anche modificarle tanto sono sue private può crearne delle nuove ma tanto rimangono sue private e alla fine prima o poi definirà i valori di ritorno quando la funzione ritorna tutte le sue variabili private sia gli argomenti che le variabili che chiamiamo variabili locali per un motivo chiaro che sono localizzate lì dentro limitate lì dentro quindi sia gli argomenti che le variabili locali vengono distrutte nel momento in cui la funzione ritorna noi abbiamo visto nel debugger che c'erano due livelli il programma principale e la chiamata di funzione ma non è difficile immaginare che se quella funzione a sua volta ne chiama una seconda ne chiama una terza i livelli possono diventare di più e ciascun livello avrà un suo gruzzoletto di variabili locali a quel livello lì non visibili né alle funzioni sopra né alle funzioni sotto né alle funzioni che la chiamano né alle funzioni che essa chiama questo è un po' il meccanismo di base che poi qua nelle slide chiaramente è riassunto nelle slide e nel libro usa un termine nuovo che io prima per sbaglio mi è uscito forse cento volte parametro cioè ad essere precisi i valori su cui lavora la funzione quindi la nostra variabile a del nostro esempio si chiama parametro della funzione a cui viene assegnato un argomento cioè un valore specifico nel momento in cui la funzione viene chiamata quindi la terminologia corretta dice che il parametro è una variabile libera diciamo che specifichiamo nella definizione della funzione questa funzione è una funzione che ha un parametro il parametro si chiama a si chiama lunghezza del lato poi quindi il parametro è questo a poi nel momento in cui chiamiamo la funzione assegniamo un argomento specifico che viene copiato il cui valore viene copiato dentro il parametro in altri casi si usa la terminologia più complicata quindi si parla di parametro formale e parametro attuale cioè il parametro formale è questo perché è semplicemente un segno a posto non è ancora un valore il parametro attuale sarebbe quello che noi abbiamo chiamato argomento cioè il valore specifico hanno due nomi diversi per ricordarci che sono due variabili distinte quella del chiamante e quella del chiamato prima quando guardavamo il debugger dicevo le variabili del programma principale e le variabili della funzione però visto che possono esserci molte funzioni più in generale avremo le variabili del chiamante cioè colui che fa la chiamata ad esempio il programma principale e il chiamato cioè la funzione di esecuzione poi questo chiamato a sua volta può essere chiamante di un'altra funzione quindi questo è un meccanismo che si ripete sempre quindi quando definiamo una funzione definiamo il nome e l'elenco dei parametri abbiamo un corpo della funzione che sono istruzioni indentate rientrate dentro sotto i due punti della funzione stessa e posso usare le variabili parametro che saranno automaticamente l'abbiamo visto inizializzate col valore degli argomenti che il programma principale che il chiamante ha specificato ok? ciò che abbiamo fatto è scrivere una funzione però per verificare che quella funzione fosse giusta calcolarsi qualcosa di corretto l'abbiamo dovuta usare abbiamo dovuto provare a chiamare questa funzione con valori diversi questo caso con un valore solo ma se io scrivessi solo questa funzione immaginate di non avere queste tre righe sotto ma solamente queste due funzioni come fate a verificare se funzionano? se io faccio run di questo vediamo subito io cancello queste tre righe e faccio run di questo programma il programma non fa niente questo programma contiene solo delle definizioni ma non contiene del codice eseguibile quindi non posso provare se funziona l'unico modo per provare se funziona è dopo aver definito tutte le funzioni usarle provare e usarle con dei valori di prova magari qui l'ho basato con valori inseriti dall'utente dovrei provare a vedere cosa succede se inserisco zero mi dice che il volume vale zero e cosa succede se il lato vale meno meno due mi dice che il volume è meno otto è un po' antipatica come cosa se un lato dovrebbe essere un valore positivo maggiore o uguale a zero e quindi magari dovremmo migliorare questa funzione restituire zero nel caso in cui il lato sia negativo o stampare un messaggio di errore a questo punto possiamo fare ciò che vogliamo noi nella definizione delle funzioni non avevamo specificato bene quali erano i valori ammessi per il primo parametro quindi in questo caso ci siamo accorti adesso provandola che ha un comportamento un po' strano nel caso in cui il lato sia negativo venga specificato come numero negativo vabbè qui ci sono i vari esempi ma li abbiamo visti nel caso in cui una funzione abbia più di un parametro cosa succede? niente i vari argomenti vorranno dire che dovrà essere chiamata con più di un argomento se io volessi fare una funzione che calcola l'ipotenusa usando il termine di Pitagora avrò due argomenti che sono il cateto 1 e il cateto 2 e mi restituirà ovviamente la radice quadrata di c1 al quadrato più c2 al quadrato no? qui mi dà un errore perché ho usato la funzione mat.qualchecosa e quindi import mat chiedo a PyCharm di aggiungermi automaticamente questo import mat al inizio quindi ho usato una funzione di libreria in questo caso ho due parametri c1 e c2 e quindi dovrò aspettarmi che la mia chiamata l'ipotenusa è uguale come l'ho chiamato prima Pitagora di 3,4 favore triangolo mettiamo la 4.0 4.0 quindi ci ricordiamo che sono numeri reali favore triangolo di cui mi aspetto che l'ipotenusa valga 5 allora come avviene l'assegnazione di 3.0 4.0 a c1 e c2 per ordine cioè il primo argomento verrà assegnato al primo parametro il secondo argomento verrà assegnato al secondo parametro se io provassi a calcolare l'ipotenusa cioè chiamare la funzione Pitagora con un argomento solo cosa può succedere? allora proviamo a vedere cosa può succedere la prima caso dovrebbe essere facile mi stamperà 5 nel secondo caso ho dimenticato il c2 il secondo cateto se io provo a eseguire questo programma mi stampa il 5 che è la prima volta e la seconda volta mi dice attenzione che alla funzione Pitagora manca un argomento posizionale necessario requisito riquario obbligatorio cioè c2 non mi hai dato c2 quindi è un errore chiamare una funzione con un numero insufficiente di argomenti rispetto al numero di parametri che quella funzione si aspetta e se ne mettesi di più se qualcuno dice non farlo però a volte lo fai per ora non lo fai apposta e anche 4 ho un errore e mi dice senti caro guarda che Pitagora ha bisogno di due argomenti e tu ne hai dati tre ok quindi nel meccanismo di chiamata della nostra scatola nera chiaramente la copia dei valori degli argomenti all'interno delle variabili di parametro avviene per ordine e ovviamente il numero di tali argomenti deve essere corretto rispetto alle variabili ai parametri presenti se così non è a runtime vedete che non mi segnala non mi segnala rosso qua perché l'editor non sa che cos'è la funzione Pitagora per il momento però quando eseguo il programma in quel momento quando arrivo con l'istruzione si blocca quindi posso chiamarlo questo è un livello di protezione in più per cui non posso chiamare una funzione se non con almeno il numero di parametri corretto volevo ancora far vedere una cosa no questo lo vediamo dopo a questo punto direi che visto che è 12.58 possiamo fermare scusate una domanda sì dimmi sì allora esistono giustamente tu mi dici nella funzione range potevo avere un parametro oppure 2 oppure 3 ok come posso fare ecco lo vediamo dopo è possibile specificare dei valori opzionali dando un valore di default ok però lo facciamo dopo l'intervallo queste varianti ci rivediamo l'uno in quarto grazie a tutti grazie a tutti Grazie.